Erano i famigerati anni Ottanta, quando il ragioniero Lugo Fantozzi correva disperato verso la sua megaditta, la famosa Italpetrocemetermotessilfarmometalchimica, dove prestava tragicamente servizio. La grossa sfida per il ragioniero Fantozzi era quella di timbrare il temutissimo cartellino per non incorrere in severi richiami da parte della dirigenza. Forse la stessa dirigenza che l'aveva assunto, forse era stato lui in persona il megadirettore galattico, colui che nessun impiegato era mai riuscito soltanto a vedere. Correva anzi voce che non esistesse nemmeno, che non fosse un uomo, ma solo un'entità astratta. Ciao a tutti, sono Marco Mutti, trainer della scuola di Palo Alto e oggi parleremo di social HR. Se pensiamo a Fantozzi, come sono lontani quegli anni, che però descrivono molto bene il panorama lavorativo di quegli anni, anni 70, anni 80. Il mondo del lavoro è cambiato drasticamente, anche complice un po' la recente pandemia, che ha stravolto alcuni equilibri.